In Parlamento si sta facendo strada l'ipotesi da affidare i poteri del commissario ad Autovie, una proposta non condivisa dalla Lega Nord. Non si può buttare l'acqua col bambino sporco, ovvero un'opera importante per tutto il Frivenenza Giulia deve andare avanti e dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni del caso anche ovviamente per le coperture necessarie per realizzare tutta l'opera. L'incartamento sul commissario della terza corsia è sul tavolo del Premier Monti.